eccoci tornati in rigorosa diretta questo è pomeriggio con noi sul 264 subito il nostro più caloroso buonasera e un ringraziamento per aver accettato i nostri inviti ad Andrea Cicconetti il presidente di Federfarma Roma buonasera Cicconetti buonasera grazie per avermi invitato chiedo scusa per la mascherina sono le leggi è in un posto chiuso e al lavoro e altre persone vicino che indossano la mascherina lei deve indossare la mascherina è sacrosanto allora io vorrei partire con lei da un'ultima ora covid sono stati spesi in farmacia 2,3 miliardi nel 2021 140 milioni per i tamponi ecco secondo lei cosa ci dicono questi dati ma ci dicono una realtà che diciamo la farmacia è effettivamente un presidio di rapido accesso sul territorio e quindi aver dato l'opportunità alle farmacie di effettuare uno screening massivo come quello dei tamponi ovviamente ha permesso alla gente di non dover fare più grandi lunghissime file per recarsi da varie parti e invece venire sotto casa sotto casa propria in farmacia sostanzialmente certo però una differenza c'è da farla ossia tra farmacie e parafarmacie qui ci sono state due pesi e due misure ma non ci sono due pesi e due misure la farmacia è una struttura sanitaria perché ha un'autorizzazione sanitaria e dentro ovviamente alla farmacia poi lavora il farmacista come figura poi c'è anche il personale non laureato la parafarmacia invece è un esercizio di vicinato non ha un'autorizzazione sanitaria ma c'è il farmacista d'accordo quindi qui è un pochettino è la farmacia chi ha avuto l'autorizzazione di seguire i tamponi non è il farmacista ma è la farmacia in quanto struttura all'interno di un complesso sistema che è il servizio sanitario nazionale ma in un momento di emergenza scusi la interrompo dove serviva fare tamponi 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 non era sarebbe stato comodo e importante aprire l'accesso anche alle parafarmacie perché sappiamo che poi fondamentalmente ci sono i fai da te a questo punto non era più sicuro farlo in una parafarmacia piuttosto che un fai da te anche voi come farmacie tra virgolette condannate i tamponi fai da te allora il discorso del farmacista allora noi mettiamo il farmacista in un panettiere e facciamo fare i tamponi al panettiere perché dentro c'è il farmacista quindi in realtà c'è tutto un meccanismo dietro non è che il farmacista e la fa o meglio la farmacia si limita a fare il tampone poi dietro c'è tutto un meccanismo di rendicontazione di di trasmissione dei dati di contact tracing che la farmacia è una realtà che vive perché sta all'interno del servizio sanitario nazionale no è come se noi a un ospedale gli mettiamo a fare queste cose lo fanno tranquillamente diverso se lo mettiamo a far fare per esempio a un poliambulatorio privato è chiaro che il poliambulatorio privato non è privato non fa parte del servizio sanitario nazionale si deve attrezzare per poterlo fare quindi diciamo parliamo di due strutture completamente diverse una struttura integrata nel servizio sanitario nazionale con un'autorizzazione sanitaria e invece un esercizio commerciale quindi non è che possiamo dire dove c'è il farmacista solo perché c'è il farmacista facciamo i tamponi quindi questo non è diciamo non sarebbe corretto poi che cosa è successo diciamo le file per i tamponi noi l'abbiamo già viste l'anno scorso sempre sotto Natale cioè nel periodo ed era un periodo di bassa prevalenza l'anno scorso parlo del periodo e meno farmacie che facevano i tamponi se non sbaglio e meno farmacie che facevano i tamponi ma anche lì c'era stata la corsa perché la gente si voleva fare il tampone e voleva stare tranquilla qui noi abbiamo vissuto nel periodo diciamo di da metà dicembre a metà gennaio di situazione in cui siamo in alta prevalenza perché siamo passati da 20.000 25.000 contagi a 200.000 contagi con la mobilità della gente che l'anno scorso non c'era perché era zona rossa quindi la gente si muoveva che voleva stare tranquilla e quindi si è creato quella situazione con un numero di farmacie elevatissime circa 16 farmacie in tutta Italia che facevano i tamponi e oltre alle farmacie che stavano anche i laboratori di analisi perché poi non è che i tamponi li facevano solo le farmacie e lei andava in un laboratorio di analisi la fila la trovava anche al laboratorio di analisi lo dico perché hanno anche optato per il drive-in molto comodo si pagava un pochino di più si arrivava in queste grandi strutture private si faceva il prelievo e poi arrivava la mail successivamente ma la la fila era ovunque sotto le feste lo dico perché ho dovuto far fare dei molecolari privatamente e curiamoci ed è stato un delirio a un laboratorio di analisi quindi voglio dire diciamo la situazione era questa mi racconta però del fai da te per favore perché poi è quello che a me interessa particolarmente no va anche non dico contro il vostro operato contro la vostra sicurezza io non a me io non riuscirei a farmelo da solo il tampone preferisco sempre che ci sia un farmacista farmelo comunque un esperto del settore e poi non sono solo farmacisti dall'altra parte ci sono anche una grande categoria che è quella degli infermieri che in realtà opera direttamente su questo servizio e poi c'è il contact tracing e tutto quello che ha spiegato lei però io le devo raccontare questa cosa qui guardi è doveroso io l'altro giorno sono andato in un negozio che vende di tutto adesso non fatemi è chiaro quello dove sono andato in un negozio che vende di tutto e di più da le casalinghi a tutto ho trovato i kit per i tamponi rapidi lì a 4 euro e 99 però poi devo capire la differenza che c'è ed è sostanziale in tanti non la capiscono io la so qual è tra farlo in farmacia 15 euro 12 euro adesso non ricordo quant'è 15 euro stabilito così in generale per gli adulti poi 8 per i bambini e invece a 4 e 99 me lo faccio da solo ok allora già la risposta è molto semplice farlo in farmacia 15 euro è come se io gli dicessi guardi pagare 12 euro una pizza margherita è un furto perché la pizza poi è fatta di acqua farina e di pomodoro senza che lei considera tutto quello che gira intorno a quella pizza margherita che le servono e quindi la struttura la location il costo del cameriere il costo della cucina e via dicendo no quindi fare un discorso così riduttivo mi diverto io quando lo vedo fatto sui tamponi in farmacia e non lo fanno su altre cose ma è chiaro che se voi mi dite una pizza che costa 12 euro ma il costo della materia prima non sarà forse neanche un euro ma bisogna considerare tutto quello che c'è intorno la professionalità lo studio la professionalità molte volte la location perché poi la pizza costa 12 euro in un posto bello dove ci stanno le candele sul tavolo dove c'è la vista tra le altre cose 5 euro io però voglio mettere alla luce anche un altro problema quindi per concludere questo argomento sui 15 euro ci sta il costo del tampone più tutto il costo infrastrutturale che assorbono le farmacie che è fatto da tutto quel numero di personale che lavora nel fare i tamponi che sono infermieri biologi medici farmacisti stessi quindi operatori sanitari che stanno lì i dpi i sistemi di protezione le assicurazioni perché poi se la gente si contagia devono essere coperte da assicurazioni il materiale per sanificare gli amministrativi che rispondono al telefono che refertano che stampano i referti che mandano i referti oggigiorno chiedono ancora i referti del 26 27 dicembre e stiamo al 3 4 febbraio insomma quindi c'è sempre un continuo lavoro quindi questo poi porta il costo noi abbiamo un contratto collettivo il nostro operatore costa 42 centesimi al minuto poi abbiamo un'altra serie di costi che portano a 15 euro certo presidente volevo farle invece un'altra domanda sempre inerente alla questione farmacie allora il problema è che nel momento in cui c'è stata la pandemia c'è stata la corsa al tampone c'è stata la corsa alla ricerca anche di un infermiere che potesse fare questa prestazione però si è completamente scordato un altro reparto ossia quella la vetrina della farmacia dove venivano venduti cosmetici creme o anche ad esempio dei colluttori specifici piuttosto che altri medicinali dove non serve la prescrizione sì beh diciamo che ci sono state delle farmacie più strutturate che ovviamente sono state in grado di riorganizzare il proprio lavoro e quindi di assorbire bene l'impatto del numero elevato dei tamponi rispetto al lavoro ordinario erano sia strutturate meglio da un punto di vista di personale che proprio di logistica quindi poter dedicare un'area separata ai tamponi eccetera eccetera ci sono state poi le farmacie quelle più piccoline che per garantire comunque il servizio dei tamponi hanno sofferto su quello che era il cosiddetto lavoro ordinario e quindi diciamo c'è sempre il risvolto della medaglia purtroppo per forza quindi questo si è realizzato soprattutto sulle strutture più piccoline però ripeto e io qui lo dico esistono le farmacie noi siamo tutti quanti abituati a vedere le grandi farmacie di recittà le farmacie di 200 metri quadri con tutte le luci belle accese con gli schermi a led eccetera eccetera però poi ci sono anche le farmacie quelle un po più piccoline che si chiamano farmacie rurali cioè quelle che quando si va in un paesino di 1500 abitanti c'è solo una farmacia no che è la farmacia rurale ecco in un paesino così e intorno a Roma ce ne sono svariati di paesini di questi basta pensare Cervara di Roma piuttosto che Gerano piuttosto che Montelibretti e altri paesi c'è una sola farmacia e quella farmacia che ha erogato il servizio è stata importantissima per i cittadini perché ha evitato ecco i cittadini di dover prendere la macchina voi pensate a un enziano che doveva non prendere la macchina a prendere il pullman e spostarsi ma andare anche poi a farsi fare il tampone per una signora anziana magari dal dottore che è in farmacia che si conosce da una vita è anche quella la differenza a livello psicologico credo no? No ma soprattutto poi far muovere queste persone potenzialmente positive il meno possibile vai sotto casa perché c'è la farmacia piuttosto che prendere il pullman oppure chiamare il nipote farti portare macchina così contagio tutta la famiglia infatti è così però non si scende più un'ultima questione ci sono alcune farmacie che non hanno aderito a questa a questa cosa qui tante grandi farmacie anche i tamponi non li fanno e io mi riferisco per ora alla regione Lazio perché la regione Lazio è stata una delle prime regioni sono l'unica ad imporre che le farmacie facciano i tamponi in altre regioni non funziona così sono solamente alcune anche nella regione Lazio ci sono farmacie che non mi spiega perché non hanno aderito i tamponi l'adesione è su base volontaria e lo è stato sempre anche nella regione Lazio quando è stata la prima regione d'Italia a partire nel novembre del 2020 e ci sono farmacie che evidentemente da un punto di vista strutturale da un punto di vista organizzativo non si sentono di fare un impasso del genere bisogna organizzarsi bisogna avere delle aree dedicate bisogna avere del personale bisogna investire risorse in un servizio efficiente perché è inutile fare 30 40 tamponi fuori all'aperto e poi far aspettare le persone un giorno intero per avere il referto questo non ha senso quindi ci vuole del personale amministrativo dietro che referti sulle piattaforme regionali e nazionali per la generazione del Green Pass in tempo abbastanza breve quindi ci vuole un minimo di 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 struttura e qualcuno evidentemente non 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 sarebbe sentita ringraziamo il presidente di Peter una ultima che mi è arrivata così so che un minuto ma la devo fare me la spiega se può velocemente anche se possibile la differenza da tampone di prima secondo terza generazione perché ad esempio quelli di terza generazione che la voce del popolo dice essere quello più sensibile poi lei mi spiegherà se è così o non è così anche rispetto alla variante omicron tanti istituti privati lo fanno di laboratori di analisi tante farmacie non lo so allora i tamponi che si fanno nelle farmacie sono tutti i tamponi antigenici rapidi con un meccanismo che si chiama di flusso laterale cioè si mette una goccia su una cartina e la cartina assorbe il liquido dove dentro c'è contenuto poi il campione quindi lo assorbe lo fa camminare sulla cartina per questo si chiama flusso laterale poi il meccanismo dello sviluppo può essere di vari tipi quello classico cioè il tampone classico che si utilizza per la maggiore è il cosiddetto antigenico appunto a flusso laterale di tipo cromatografico quello con le linette che vedete sempre le foto no la linetta due linette anche com'è quello raro classico il fai da te anche il fai da te si chiama appunto cromatografico perché compaiono due linee colorate una se si è negativi due se si è positivi questo questi test rispettano tutti quanti gli standard imposti dal dalla comunità europea e hanno una certa sensibilità d'accordo che arriva anche al 97 98 per cento perfetto poi ci sono sempre test antigenici sempre di seconda generazione che però vengono fatti con una lettura a in fluorescenza quindi c'è sempre la cartina dove uno va a mettere la goccia sopra però poi non si vede nulla a occhio nudo d'accordo perché la cartina deve essere inserito dentro un apparecchio che ha una lampada particolare e che quindi legge in fluorescenza questi diciamo questi tamponi di seconda generazione con questa tecnica di fluorescenza si chiamano tamponi semi quantitativi perché danno anche una carica virale con indice COI dove COI è un termine inglese che sta per cut off index e quindi danno un valore che se è inferiore a 1 si vede sul display della macchina se è inferiore a 1 la persona è negativa se da 1 e 10 è debolmente positiva se è superiore a 10 è sicuramente positiva questi tamponi con questa lettura a fluorescenza riescono a prendere laddove l'antigenico cromatografico ha dei limiti cioè il debolmente positivo l'antigenico rapido potrebbe non rilevarlo per una serie di motivi che adesso vi dirò poi c'è la terza generazione di tamponi che sono sempre a immunofluorescenza quindi con la cartina dove non si vede nulla sopra vengono letti da un altro macchinario hanno una tecnica ancora più evoluta e hanno un'affidabilità ancora maggiore paragonabile praticamente ai molecolari nelle farmacie la variante omicron la terza generazione la vede sì o no è questo per il grande gruppo italiano la vedono le farmacie hanno i tamponi coi quelli col catto findex molto è importante il tipo di prelievo guardi io ho visto stesso stesso soggetto positivo all'antigenico e negativo al coi o al molecolare abbiamo visto anche noi di molte così è importantissimo il prelievo stare molto attenti al fai da te grazie davvero presidente grazie a voi buona serata linea alla pubblicità a tra poco grazie a tutti grazie a tutti